Sarà gentili telespettatori, il nuovo appuntamento è questo che noi investiamo molte risorse, cioè deve dire che collaborate con un'azienda tedesca e qui avete una tipologia di rifiuti che si avviano ciascuno a una propria filiera. Ovviamente l'Italia è per noi sempre il nostro paese, quindi fare ricerca sui piatti. Questo ha cambiato anche il volto di un'azienda. Buonasera gentili telespettatori, nuovo appuntamento di Made in Italy. Questa sera continueremo a parlare di design, raccontandovi la storia di Angelo Cappellini e di tante aziende che riescono a collaborare tra di loro per affermarsi all'estero. Lo faremo sempre con ospiti che erano presenti la scorsa settimana. Ovviamente buonasera e benvenuto a Gianluca Roo. Buonasera a tutti. Ringrazio ancora Luca Mapelli di Angelo Cappellini. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a Dezio Panzeri di RR. Buonasera. Buonasera a Giovanni Amoroso di Design International. Buonasera. Ringrazio ancora Pietro Grande di Cresos SRL. Buonasera. E grazie ancora Paolo Bleve del direttore Il Foglio. Buonasera. Buonasera. Allora Gianluca, la scorsa settimana abbiamo un po' raccontato di questa bellissima azienda e di tante aziende che riescono a collaborare tra di loro. Questa sera cercheremo anche di raccontarvi una collezione, quella di Opera Contemporary, ma intanto per riassumere un po' i concetti che abbiamo trattato la scorsa settimana. Beh, intanto il Made in Italy, che è poi il concetto fondamentale che abbiamo cercato di trasmettere, il Made in Italy che si tramanda in tante declinazioni, c'è la declinazione più tecnologica, la declinazione del food, la declinazione in questo caso del design, dell'arredamento di interni e in parte anche dell'architettura, perché no, perché comunque sono materie estremamente collegate. Abbiamo una filiera di imprese che opera sul territorio e che si proietta a livello internazionale in tantissimi paesi dove il Made in Italy è veramente un valore aggiunto straordinario, che deve naturalmente affrontare la concorrenza internazionale con tutte le difficoltà che questo comporta e l'aspetto di promozione, commercializzazione, la produzione, poi il trasporto e l'installazione con tutto quello che ne consegue ed è venuto fuori che probabilmente il Made in Italy non è soltanto il prodotto finale che viene poi consegnato al cliente, ma è tutto l'intorno del servizio, dalla nostra storia, quindi dallo storytelling che facciamo poi al cliente fino alla scelta dei materiali e l'installazione, la realizzazione, la progettualità che c'è dietro, insomma tutto il mondo del Made in Italy che si proietta fuori dall'Italia, come dire che quelle cose che vengono fatte e realizzate in Italia non sono fatte e realizzate per stare qui, ma per stare in tutto il mondo. E qualche anno fa Angelo Cappellini e la sua azienda hanno dato vita a Opera Contemporary, una collezione raffinata, elegante, ma Pelli ci vuole raccontare perché nasce questo tipo di collezione e come sta andando? Allora la collezione nasce dal fatto che Angelo Cappellini è una realtà soprattutto, mi piace dire, produttiva, quindi ha uno stabilimento dove vengono creati i fusti, dove si crea proprio il mobile e creando mobili in stile ci è capitato di creare, in questo caso soprattutto per clienti statunitensi, anche dei mobili e delle sedie soprattutto in uno stile più contemporaneo, più moderno. da lì l'idea di poi sviluppare questa linea e trasformarla in una linea completa. Un po' difficile definire la parola Contemporary perché è una parola difficilmente traducibile dall'inglese, perché cosa è contemporaneo è un punto di domanda. Comunque la collezione sta funzionando molto bene, si sta sviluppando, i clienti stanno capendo che c'è un valore di design importante e anche di qualità e soprattutto che questo stile oltrepassa un po' la moda, diciamo resiste per qualche anno, non è destinato a cambiare velocemente. Quindi forse contemporaneo in questo caso può essere tradotto come varrà per un po' di tempo. Banzieri, però la scorsa settimana abbiamo anche accennato al concetto dell'innovazione. Oggi per un'azienda che lavora nel vostro campo è possibile coniugare tradizione con l'innovazione? È necessario, è necessario per essere propositivi, per proporre qualcosa che sia una rivisitazione di quello che aveva a suo tempo un appeal, un gusto, ma vincolato a quel periodo. Oggi essenzialmente si propongono dei prodotti che hanno delle radici storiche in quello, però vengono rivisitati, rinfrescati, mantenendo le peculiarità di partenza. Ecco, vogliamo dire voi di cosa vi occupate? Sostanzialmente noi siamo editori tessini, creiamo dei nuovi prodotti, dei nuovi tessuti sulla scorta di disegni d'archivio che abbiamo, di qualità che andiamo a recuperare negli archivi storici dei musei, nelle ville padronali, riproponiamo con la nuova fattura, naturalmente tutto quello che veniva fatto manualmente su telai manuali, noi lo riproponiamo sulle macchine attuali, rinfrescandoli nel colore, rinfrescandoli in freschezza di qualità. Ecco, quanto è importante curare ogni minimo dettaglio nel processo produttivo? È essenziale oggi. La filiera che è molto lunga andrebbe accorciata tantissimo, ma è molto lunga, ci crea dei problemi proprio su quella che è la cura maniacale. Perché? Perché abbiamo dei processi che sono esternizzati che difficilmente riusciamo a seguire e si rischia di arrivare in fondo col prodotto finale con tutte le problematiche legate al fatto che avendo esternizzato in parte o buona parte crea delle grosse problematiche. Quindi per ovviare a questo devi per forza, maniacalmente, seguire quello che è dalla progettazione alla scelta dei colori, alla scelta delle materie prime e alla produzione finale. Blev, è possibile coniugare appunto innovazione e tradizione, come dice? Secondo me è assolutamente sì. E come si diceva appunto la scorsa settimana, questo riescono a farlo le aziende che hanno comunque alle spalle un'esperienza. Quindi riuscire comunque a reinterpretare quotidianamente quelli che sono alcuni valori della tradizione, ma riproponendoli in chiave più contemporanea è una di quelle opportunità che molte aziende italiane riescono comunque a fare. Alla fine anche solo la storia ci insegna nel mondo della moda piuttosto che altri settori che rimescolando stili e forme si riesce comunque a dare una nuova vita agli oggetti piuttosto che ad altre tendenze. Per oggi a Luca noi la scorsa settimana abbiamo un po' accennato il fatto che stiamo perdendo questa tradizione. Perdiamo un po' questa cultura, questa attenzione verso i maestri artigiani? Beh questa è la testimonianza perlomeno che ci hanno portato i nostri imprenditori e che vanno in giro e quotidianamente affrontano il mercato. Questo pericolo di perdere la manualità, di perdere l'artigianalità che spesso caratterizza il Made in Italy. Nell'ora questa spinta anche del nostro sistema educativo verso la formazione più esclusivamente accademico, letteraria senza poi alcun aspetto pratico. Quindi l'aspetto poi del tramandare il Made in Italy coinvolge tantissimi settori della nostra nazione in cui non è possibile lasciar fare soltanto esclusivamente le aziende, comprendo magari il marketing internazionale, insomma in quel caso mettetevi d'accordo, fate le cose insieme, ci può stare, è ragionevole, ma che si debba rivedere il sistema educativo questo è un fatto in Italia. Abbiamo tantissimi laureati e tantissimi disoccupati, penso che ci sia anche una proporzione in questo. In compenso le grandi tradizioni artigianali vengono lasciate, diciamo, a quelle che sono nuove generazioni, spesso magari di italiani di seconda generazione, magari figli di immigrati che, essendo più pragmatici forse per una condizione economica di base, di partenza più bassa, essendo più pragmatiche le famiglie dicono vai a lavorare, vai a trovarti qualcosa che ti caratterizzi, vai a farlo artigiano. Ecco probabilmente mancano nuove generazioni di artigiani, è anche vero che il nostro paese si deve rivedere in tantissimi aspetti, quindi questo è soltanto uno degli aspetti per cui noi stiamo perdendo anche alcuni tratti che caratterizzano la Made in Italy, l'altro è perché chi ci copia sta diventando sempre più bravo e questo è anche un fatto, spesso lo diciamo per le borse per l'abbigliamento, spesso le stesse fabbriche thailandesi o dell'est asiatico che producono le borse per i grandi marchi internazionali, non soltanto italiani, sono le stesse che poi fabbricano quella quota di falsi che invade quegli stessi mercati a prezzi estremamente ridotti. In quel caso sono proprio loro che li fanno, li fanno per i big che fanno il disegno e poi li fanno come sottomarche per produrle. Tenendo la produzione in Italia, facendo un po' più protezionisti e facendo pagare bene quelli che ci comprano è proprio molto complicato poi a quel punto che qualcuno ci copia, se noi siamo più bravi degli artigiani che ci copiano. Attenzione a non dare troppo spazio e troppo tempo a quelli che ci copiano perché quelli possono diventare più bravi di noi. Lo diceva la mia professoressa di lettere, alle superiori, diceva, oh Russo, sei bravo a scrivere, però se non ti impegni, quelli che poi lavorano tutti i giorni per imparare a scrivere, tra sei mesi saranno più bravi di te. Fai attenzione che il talento non basta. Grande, stiamo perdendo questa caratteristica italiana dovuta alla bravura dei nostri maestri artigiani. Oddio, penso di sì perché dalla mia esperienza quando giro nelle aziende italiane cosa vedo? Vedo che l'età sta diventando sempre più avanzata. Abbiamo dei bravissimi maestri artigiani, però temo che, o perlomeno, lunga vita a questi maestri artigiani perché non so se le nuove leve saranno in grado di ripiazzare, me lo auguro con tutto il cuore perché ne va di tutto il nostro business, perché proprio i maestri artigiani sono un elemento che ci contraddistingue, come stava dicendo Gianluca. Sono loro anche che sono molto bravi nella ricerca dei materiali, nelle finiture, nel realizzare quello che il designer ha prodotto sulla carta, lui lo porta fino al termine realizzando il prodotto. Quindi ci sono, però temo che sia un'irriduzione purtroppo, ma spero che le nuove generazioni sapranno riempire questo vuoto. Ma il dottor Amoroso mi può confermare perché lui nel design di quanto lo siamo noi, che siamo degli esecutori, che non solo i maestri artigiani mancano, ma mancano anche i designer. Cioè, esiste il design, ci sono i giovani designer che sanno disegnare, ma non sanno disegnare, non sono disegnatori costruttivi, non sanno niente di costruzione, quindi sanno disegnare un mobile, ma poi il mobile non sta in piedi. Ci sono i sarti che ricevono il design dei vestiti, ma non possono essere cuciti. Questo è il grande problema dell'Italia di questo momento, oltre all'artigiano che sta diventando sempre più anziano. Prego, possiamo confermare questo problema? Assolutamente sì, d'accordo. Cioè vi arrivano dei disegni di mobili che non stanno in piedi, ma seriamente? Ma da designer che fanno questo di mestiere? Certamente è importante far vivere sul campo le situazioni, perché solo con l'esperienza sul campo poi effettivamente puoi capire esattamente le cose come vanno. E troppa teoria fa male. Beh, allora sono tutti d'accordo, bisogna andare a lavorare sul campo un po' tutti, da la A alla Z, non è che per forza qualcuno di specifico. Ma designer nuovi italiani, chiedo al collega giornalista, insomma, con noi, emergenti, bravi sul mobile, sul... Ma diciamo che appunto le sinergie che funzionano sono quelle in cui il designer non sta nel suo studio a disegnare per i fatti suoi, ma cerca di vivere un po' l'azienda. Quindi per capire quali sono anche, perché ogni azienda ha le sue peculiarità... E va a parlare col maestro artigiano. Esatto. Che gliele sa dire. Perché ogni azienda ha le sue peculiarità magari in specializzazioni di lavorazioni. Quindi il designer, secondo me, molto spesso non deve soltanto metterci una firma o disegnare il prodotto, ma tramite il prodotto dovrebbe essere riconoscibile quello che è l'anima dell'azienda. E devo dire che adesso c'è un po' il fenomeno comunque dell'archistar, quindi fondamentalmente riconosci il tratto, ma se poi dietro a quel prodotto ci fosse un altro brand è abbastanza irriconoscibile. Quindi un'azienda che comunque investe non ha poi un prodotto suo vero. E devo dire che la tendenza è più nel crearsi degli studi, essere molto bravi, fare delle cose belle, però che poi riscontrano problematiche nel processo di ingegnerizzazione, industrializzazione del prodotto. Vabbè, questa è una contraddizione in termini, il design è proprio questo, il design è la capacità di progettare qualcosa riprodotto in scala industriale. La definizione in termini precisi, forse no, perché se no sarebbe artigianato se fosse fatto un pezzo alla volta. E' un grande problema questo, è un grandissimo problema il fatto che vengono disegnati tantissimi mobili che poi sono di fatto non costruibili. Senza parlare dell'ergonomia, cioè della capacità poi di funzionare per quello che servono. Durante una fiera comunque presentano dei prodotti e poi una volta che si ritrova a doverli mettere in produzione si accorgono che il divano non sta in piedi, per esempio, ci sono delle problematiche e quindi automaticamente viene eliminata la proposta. O che non è comodo. O magari esatto. Hai fatto un bellissimo design, un bellissimo divano, ma quando ti siedi poi... Scomodissimo. Qualcosa è abbastanza grave, credo. È grave, è molto grave. Ma ci sono delle soluzioni all'orizzonte? Le vedo molto difficili. È una cosa su cui si devono impegnare le aziende, devono essere anche aiutate dalla formazione, perché la formazione non può essere fatta solo sui banchi di scuola, deve essere fatta anche nelle aziende. Stanno cercando di farlo, ma in una maniera molto... Beh, ci sono delle realtà, appunto, delle associazioni che magari cercano di far sì che le aziende a un certo punto nei processi di studio incominciano a entrare sui banchi, quindi sulle scrivanie delle accademie piuttosto che delle università e quindi si creano delle collaborazioni, delle strategie fra istituto e aziende, quindi magari gli stessi designer, nuovi talenti, percorrono dei periodi in alcune aziende, almeno questo succede in Brianz. Sì, lo fa con il tecnico, ma lo fa con dei laureati, è un laureato a un'età molto elevata. Per l'età molto elevata cosa intendete? Parliamo di 25 anni, cioè non andrà mai a fare l'artigiano uno che ha una laurea di ingegnere, quindi va riportato molto indietro questo tipo di apprendistato. 16-17 anni? E quello sì, e quello è la cosa giusta. E poi è un periodo più prolungato, il periodo dello stegista che sono i due mesi che dà il credito ed esclusivamente, la forma di quello che poteva essere esatto. State descrivendo una formazione di tipo tedesco però, perché i ragazzi tedeschi verso 16-17 anni vengono spediti a lavorare e poi eventualmente... Vengono inseriti in un'azienda in un periodo molto più lungo, quindi acquisiscono quella capacità che è la prova sul campo di tutto quello che è il bagaglio di esperienza di chi è più anziano di lui, di chi ha comunque una memoria di quello che deve fare. E a quel punto si forma e forma anche, ma forma mentis, del tipo di lavoro che andrà a fare. Adesso mi avete incuriosito, ma la scuola migliore di design attuale a livello di nazioni? Cioè da che nazione vengono i nuovi designer che fanno robe che funzionano o magari anche graziose? Quanto tempo abbiamo per rispondere? Penso che sia il dottor Amoroso che... No, ma noi siamo una realtà di San 2000 veramente atipica in questo contesto. Noi non produciamo, ma facciamo priorizzazione e realizzazione. I nostri designer interni in realtà sono dei designer che fanno per poi produrre, per poi lavorare. Quindi fortunatamente per noi siamo un caso eccezionale e i nostri designer in realtà sanno che poi quell'oggetto che disegnano deve effettivamente funzionare. Quindi siamo veramente un po' atipici. I ragazzi che prendiamo sono tutti molto giovani, hanno una carriera prettamente interna e per fortuna nostra riusciamo ad andare avanti. Penso però che senz'altro anche qui dobbiamo cercare di abbattere le termine delle barriere. I curriculum che arrivano da tutte le parti del mondo dobbiamo smettere con una certa provincialità per cui soltanto quelli delle nostre regioni sono idonei a lavorare nelle nostre aziende. Dobbiamo essere aperti a riuscire a prendere con noi tutto il meglio che c'è nel mondo, non nella nostra regione o nella nostra nazione. E quindi cosa fa l'italianità dopo però? Come fa scuse? Cosa fa l'italianità? L'italianità è qualcosa di diverso dalla cittadinanza o dal passaporto di una persona. L'italianità, il made in Italy è veramente una cultura e di nuovo tornando ai temi della settimana passata, in termini di personalizzazione, di ascolto del desiderio e del requisito del cliente. Questo fa il made in Italy. Non stampa con una macchina industriale milioni di copie. Deve cercare di adattare la propria produzione, il proprio prodotto, il proprio servizio di nuovo a una realtà che è quella che è il desiderio del cliente. Questo è il passaggio del made in Italy a mio parere. Che è il risultato finale, secondo me, c'è la differenza. Quindi il made in Italy riconosce il risultato finale. Se per arrivare a realizzare una collezione, se sono impiegate… Anche però molto il come si fa. Sì, sì. Cioè, senz'altro il risultato finale è poi alla fine… Cioè, l'espressione del made in Italy. È il risultato di un processo che è durante, di ascolto del cliente e di servizio. Perché non ce n'è. È inutile limitarsi al prodotto finale. Dobbiamo fare un percorso che è ascoltare il cliente, realizzare delle operazioni molto più personalizzate di quello che possa essere un semplice catalogo e poi andare a realizzare esattamente con affidabilità di tempi e di costi quello che è il requisito del cliente. Per tornare alla sua domanda, se noi usciamo un attimo dal residenziale e andiamo all'alberghiero, difficilmente troviamo grandi alberghi con firma di design italiani, anche in Italia. I più grandi alberghi italiani sono i designer inglesi, statunitensi o francesi. Allora, la risposta ce l'abbiamo avuta, alla fine. Allora, noi ci fermiamo un attimo perché vediamo questo video che abbiamo preparato proprio su Opera Contemporary e poi parleremo ancora di altri temi. Vediamo. Opera è il brand contemporaneo di Angelo Cappellini, un'azienda che affonda solide radici nell'Abrianza, una delle aree produttive più importanti del bel paese. Proprio qui, a Cabiate, l'Angelo Cappellini muove i primi passi verso quella che sarà un'impresa famosa a livello internazionale, per qualità e made in Italy. Serietà e competenza, unita ad una organizzazione moderna e dinamica, hanno permesso ad Opera di affermarsi sempre più come azienda di successo. La collezione Opera, proveniendo dalla stessa produzione Angelo Cappellini, conserva in ogni articolo la sapienza artigianale, nel fare le cose come una volta, dove di fianco ai grandi tecnologici macchinari aziendali non può mancare l'occhio esperto dell'artigiano, quello di chi, esperienza alle spalle, sta davvero quando un prodotto è pronto per essere presentato con dovizia ai clienti. Grazie a tutti. Grazie all'impegno degli addetti ai lavori e all'eleganza degli arredi di opera, le collezioni sono considerate come sinonimo di pregio e stile, solitamente preferite da hotel di lusso, ambasciate e ville private, come omaggio al bello e all'italianità. Le collezioni, apprezzate per eleganza e qualità, sono elemento di pregio sia all'interno di residenze private che nelle grandi sale di un'ambasciata, di una villa o di un hotel. Le recenti e prestigiose realizzazioni incoraggiano lo sviluppo della ricerca oltre lo stile. Nell'azienda, appena rinnovata, vengono usati i macchinari e strumenti tecnologicamente più avanzati che, insieme all'esperienza e alla conoscenza tecnica dei nostri maestri artigiani, garantiscono che ogni prodotto realizzato sia unico, esclusivo e personalizzato su richiesta. L'esperienza maturata attraverso importanti collaborazioni internazionali e il patrimonio che opera offre ai clienti nella gestione e nello sviluppo di progetti e forniture contract. Le competenze del team spaziano dal progetto tecnico su richiesta del cliente alla pura creatività, generando una capacità di servizio a 360 gradi. Dal progetto alla realizzazione, il processo produttivo viene scrupolosamente monitorato da un team specializzato, seguendo standard qualitativi capaci di soddisfare anche il cliente più esigente. Bene, abbiamo visto il video, un po' ci racconta questa collezione, ma Pelle, possiamo citare qualche collezione, qualche prestigiosa realizzazione per far capire quanto puntate, quanto state puntando su questa collezione? Per esempio, una realizzazione importante è stata fatta con Design 2000 quest'anno per il governo dell'Angola, uno dei palazzi più importanti, penso uno dei progetti più prestigiosi che è stato realizzato nel corso dell'anno in cui opera era presente e credo che sia questo insieme al Ministero degli Esteri del Qatar, dove è stata specificata tutta opera, quindi anche per, non solo per il residenziale privato, ma anche per determinati progetti di svariati milioni di euro, opera sta diventando un prodotto interessante. Quindi, per riassumere, i due che citerebbe sono quelli fatte con Design 2000, il palazzo del presidente dell'Angola, giusto? Caspita, fino in Angola? Domanda, questo è il Made in Italy, e poi la... Ministero degli Esteri del Qatar. Caspita, ma dove? Lì in Qatar? Porca miseria. Sempre con voi? In quel caso no. In quel caso no. Ho capito. Un modello che si sta diffondendo moltissimo è il contract, voi da anni comunque sperimentate questo modello. In Italia sta prendendo piede, è possibile far lavorare tanti soggetti insieme per ottenere questo tipo di... Il contract è ormai una necessità, pensare che i produttori producano su catalogo e poi mettano i propri pezzi in un negozio e qualcuno entri e lo compri non potrà mai soddisfare le esigenze delle aziende produttrici italiane. È assolutamente necessario entrare in commessa di più ampio respiro dove di nuovo c'è più servizio e dove in qualche modo c'è una fornitura molto più ampia. In quella maniera si possono fare i numeri che possono soddisfare le aziende italiane. Design 2000 la peculiarità il design 2000 nasce proprio come società di contract intesa come progettazione e realizzazione di chiave in mano. Design 2000 nasce da un negozio degli anni 70. Era un negozio di Roma abbastanza alla moda dove due soci i più giovani intuivano quando globalizzazione ancora non era una parola che non esisteva non era declinata che si potevano esportare dei mobili verso il mondo estero e quindi internazionalizzazione. Da lì ovviamente sempre è stato il cliente che ha fatto il mercato e ha creato l'esigenza e il bisogno si sono aggiunte nuove tipologie merceologie dai pavimenti ai soffitti a tutto quello che era all'interno e da qui nasce Design 2000 che è la conigazione di architetti e produttrici. Abbiamo ormai un network di diverse centinaia di produttori italiani ed europei i nostri progetti per il 60-70% sono realizzati in Italia ed in Europa e poi esportati e montati dovunque nel mondo e la maggior parte di questi sono custom made sono personalizzati esclusivamente per l'esigenza del cliente. Credo che questo sia esattamente quello che Made in Italy oggi rappresenta cioè di nuovo qualità personalizzazione incontro del desiderio del cliente e lì dobbiamo andare a parare. Design 2000 fortunatamente è una società che è nata in questo senso ma credo che molti altri attori del Made in Italy possano replicare questo modello. Panseri è d'accordo sull'importanza di soddisfare al 100% il cliente e oggi non si può trascurare nulla o in ogni parte del processo produttivo. Assolutamente sì perché come già anticipavamo nella precedente puntata il nostro target di cliente era ormai rimasto l'altissimo quindi se non perdiamo quello che è il servizio perdiamo quello che è il chiudere a 360 gradi la fornitura non abbiamo dei grandi vantaggi dal punto di vista industriale di numeri che ci consentano di rimanere nel mercato. sicuramente è l'unica strada percorribile. Gianluca però lo sappiamo che è veramente difficile far lavorare tanti soggetti soprattutto magari gli architetti con le aziende abbiamo sperimentato in passato questo tipo di difficoltà. Beh ci vuole una guida forte ci vuole una guida competente ci vuole una guida che sia in grado di gestire le varie personalità che sono molteplici tra l'altro in un'operazione di questo genere perché non c'è soltanto l'aspetto manageriale c'è anche l'aspetto artistico che ha la preponderanza l'aspetto realizzativo che deve essere di grandissima qualità un aspetto ingegneristico per verificare che tutto quadri ecco e poi c'è il cliente che è la grande incognita ma neanche tanto perché alla fine quando poi fai un lavoro fatto bene il cliente è soltanto che contento anzi è consapevole di aver speso diciamo poco per quello che ha perché è un pezzo unico irripetibile e quindi da quel punto di vista sì non invidio proprio chi si occupa di mettere d'accordo tutte queste persone perché passerà più tempo a mettere d'accordo che poi magari effettivamente a lavorare però quando si lavora è un piacere se le cose filano filano giuste e lisce e io credo che sì siamo teste matte per non dire altri termini ben poco meno lusinghiere diciamo però quando lavoriamo e lavoriamo insieme siamo un team imbattibile una squadra fortissimi oserei dire grande è un'opportunità il contract per le aziende italiane per lavorare all'estero sempre di più perché come hanno già detto i colleghi da una parte la clientela rimane sempre più solamente la fascia medio alta e neanche meglio alta sbagliato alta e dall'altra parte come diceva Giovanni cioè non si riesce più io seguo i mercati dell'est seguo vari paesi dai baltici fino al kazak che sta includendo tutti i paesi caucasici e da 20 anni a questa parte e quindi posso dirvi che mentre prima si vendeva quasi esclusivamente quando iniziato 93-94 quasi esclusivamente tramite negozio e si faceva a gara chi faceva il negozio più grande 3.000 5.000 8.000 15.000 20.000 metri ogni volta c'era la notizia di chi faceva il negozio più grande e poi col passare del tempo con l'arrivo della crisi via dicendo c'è stata la riduzione da parte dei negozi lo sviluppo di studi design che hanno incominciato a seguire prima progetti più piccoli poi per arrivare fino al punto di seguire progetti sempre più grandi e quindi il contract il cliente quindi che non si accontenta più di entrare nel negozio di aprire il catalogo di scegliere l'articolo XY ma che vuole al suo fianco professionisti di alto livello che gli devono servizi e professionalità appunto quindi architetti designer di prestigio anche di firm perché poi c'è la gara anche lì essendo tutta gente di alto livello chi ha il designer più importante e si affidano completamente a loro per appunto avere il servizio migliore in assoluto fino al penso quasi sempre chiave in mano possiamo dire chiave in mano viene fuori ancora un vantaggio che possiamo sfruttare noi italiani perché questi design per pur bravi che siano difficilmente mandano il disegno costruttivo di un mobile ecco lì che è importante che i produttori si attrezzino con studi tecnici e comunque con una importante conoscenza della parte intellettuale del lavoro oltre che dell'aspetto produttivo per l'amor di Dio la manualità è fondamentale la capacità a innovare altrettanto e per far questo c'è bisogno anche di una certa trasformazione della azienda posso aggiungere per tirare un po' l'acqua anche al mio volino perché tu sei la parte intellettuale loro sono la parte produttiva però c'è bisogno anche l'hai detto anche tu stesso giustamente di molto servizio perché di coordinamento poi tra le varie fasi perché la singola azienda a volte si perde e c'è bisogno di coordinare la richiesta che viene dall'estero con quello che devono effettivamente fare per andare incontro alle esigenze del cliente questa è una cosa penso importante possiamo soltanto dire di cosa vi occupate voi la mia io ho una società di servizi che ormai come dicevo prima dal 93 al 94 con la caduta del muro mi sono rivolto verso questi paesi per seguire quella che era una richiesta loro e la richiesta loro iniziare era quella di che creavano dei negozi e per cui io mi sono messo al servizio di negozianti nei vari paesi da Lituania Lettonia Estonia Bielorussia Ucraina tutti i paesi caucasici Azerbaijan Georgia Kazakistan e via dicendo per dare loro un servizio chiamiamolo così definiamolo di buy in office nel senso che essendo molto lontani avendo difficoltà pur potendo venire nelle fiere vedendo il mobile contattando velocemente però poi c'è la difficoltà di mantenere di portare avanti il rapporto e di avere anche contatti con più aziende per cui mi sono specializzato in quel servizio per i negozi per gli studi design di dare il servizio del buy in office nel senso che tu mi mandi i tuoi ordini io te li gestisco te lo gestisco dallo sviluppo che a volte non sei molto bravo neanche nello sviluppare l'ordine al controllo dell'ordine stesso ai vari pagamenti e quindi al ritiro di tutta la merce facendola confluire in un unico magazzino e poi facendoti fare un unico pagamento con un'unica fatturazione è un servizio che è andato molto bene negli anni anche se adesso si sta trasformando perché appunto i negozi lavorano sempre meno ci siamo abbiamo trovato sempre più studi design e adesso anche noi a volte fungiamo forse non come Giovanni che ha un suo reparto interno è propositivo io c'ho per esempio questi studi di architettura che hanno bisogno anche loro di un chiamiamolo un general contractor giusto si può dire assolutamente sì che che coordini le varie aziende perché come si diceva le grandi aziende italiane poi alla fine sono piccole aziende piccole aziende che non sempre sono anche ben strutturate per quanto riguarda il servizio e neanche meno per il servizio all'estero voglio dire non sono sempre le piccole piccole non hanno proprio anche le possibilità quindi però sono quelli che a volte sono anche i più bravi sono dei veri tesori dei veri tesori dei veri tesori nascosti quindi hanno bisogno che in Italy ha il dovere di diffondere esatto e noi cerchiamo di aiutarli mettendo assieme e dando il servizio in maniera tale che anche il committente abbia un punto di riferimento unico perché diventa difficile poi interloquire con chi sa parlare solo l'italiano e che ti vada bene a volte che parli italiano perché ci sono delle volte sbaglio assolutamente c'è lo straordinario che parla soltanto il dialetto ecco però alla fine guardiamo solamente il prodotto e quindi non solo ma in un'offerta integrata di più parti si va a dialogare sia con il piccolo archigiano che con la grande azienda e il tutto deve essere invece integrato e coniugato con un'unica comunicazione con un unico progetto quindi l'importanza dell'attività di coordinamento per riuscire a tradurre in ciascun dialetto il linguaggio comune di realizzazione chiave in mano di alto livello è un ruolo direi sostanziale per enfatizzare questo enorme patrimonio che abbiamo all'interno dell'azienda Paolo tu la tua esperienza riesci comunque a confermare questo tipo di di modello di contract che può essere un'opportunità per le aziende italiane all'estero si perché contrariamente a quanto si diceva la volta scorsa riguardo a il creare comunque una sinergia a livello commerciale sotto l'aspetto della produzione quindi il contract per partecipare a un contract devi rispondere a dei quesiti abbastanza canonici il primo è appunto la personalizzazione quindi la flessibilità nel processo magari produttivo o comunque nell'offrire un prodotto ad hoc e le aziende italiane di fatto hanno questa capacità molto sartoriale quindi in questo si vede un po' il gioco di squadra perché appunto l'unione di più competenze poi fa sì che si riesca a entrare in determinate commesse che comunque privilegiano questo valore appunto più sartoriale quindi la possibilità di dare un prodotto che non è da catalogo ma automaticamente più personalizzato siamo quasi alla fine ci vuoi dire qualcosa un po' sul foglio il foglio del mobile sì il nostro giornale è nato nel 2007 quindi siamo relativamente giovani sul campo editoriale però nascendo comunque su una manifestazione come quella di Milano quindi il senatore mobile di Milano abbiamo subito intravisto quella che è la necessità delle aziende di internazionalizzarsi quindi questi processi che si stavano cominciando a attivare da tempo li abbiamo subito seguiti quindi interpretando un po' quelle che erano le strategie delle aziende abbiamo cercato di supportarle quindi oggi il giornale è presente in 17 mercati e quindi diffuso durante 30 eventi internazionali appunto facendosi portavoce di quello che sono le capacità del Made in Italy quindi parliamo di aziende italiane e basta durante i momenti di incontro quindi tra operatori i buyer che dicevamo prima i eventuali distributori che devono scegliere dei partner e magari poterli scegliere da questo pacchetto di aziende italiane quindi questo è un po' la... ecco in queste due puntate ma per le abbiamo un po' raccontato la vostra storia e anche questa collezione opera contemporary il futuro a questo punto possiamo annunciare qualcosa qualche progetto interessante sì possiamo annunciare che il futuro non è così nero come ce lo aspettiamo possiamo pensare positivo perché il prodotto è buono perché abbiamo dei partner molto importanti sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista dello sviluppo del contrat abbiamo chi va a cercare i clienti abbiamo chi diffonde attraverso la scrittura e il giornale il Made in Italy quindi le persone che sono sedute con me io devo solo ringraziarle come ringrazio chi è manuale perché aiutano il Made in Italy e aiuteranno la nostra azienda a crescere bene noi purtroppo abbiamo finito questa puntata dedicata appunto al design italiano io ringrazio Paolo Bleve per essere stato qui con noi grazie a voi voglio ringraziare Pietro Grande di Cresos SRL buonasera a Giovanni Amoroso di Design 2000 International buonasera grazie grazie ancora Dezio Panzeri di RR grazie a voi ovviamente buonasera e grazie a Luca Mapelli Gianluca come concludiamo questa seconda puntata dedicata a questa prestigiosa azienda beh intanto ci siamo resi conto che quando c'è il know-how quindi la capacità di saper fare e tutta la creatività che uno si immagina come dire come una nuvola in alto e raggiungibile diventa a portata di mano perché le cose che uno riesce ad immaginare le riesce poi a produrre realizzare e commercializzare quando c'è la squadra quando c'è il team che funziona quando c'è una filiera come abbiamo visto qui oggi schierata plasticamente nel nostro studio allora noi riusciamo da una parte a vendere dall'altra a raccontare dall'altra ancora a disegnare a progettare a realizzare effettivamente e poi dall'altra a costruire con la qualità richiesta e abbiamo una squadra veramente imbattibile questo è il Made in Italy del mondo è fatto di tante piccole e medie realtà non di realtà gigantesche monolitiche che per questo sono anche difficili nel rinnovamento interno nella crescita delle idee eccetera ma di fatto abbiamo tante realtà piccole che si muovono come un unico organismo molto grande capace di arrivare dappertutto quindi se il futuro non è così nero come ce lo immaginiamo tutti noi italiani da questa nostra prospettiva ridotta all'interno della nostra nazione lo dobbiamo anche soprattutto ad aziende come questa quindi l'augurio è che sia più rosa colorato o del colore di design di tendenza del futuro che loro decideranno per tutti bene grazie anche a Gianluca Rui noi ci vediamo come sempre prossima settimana buona serata grazie a tutti grazie a tutti